Anticipo con impaglio punti salvezza importantissimi quello dello stadio dei Marsi tra l'Avezzano e il Nuova Florida. Marsicani davanti alla necessità di una buona prestazione, soprattutto per cancellare il pesantissimo 5-1 subito in quel di Fano. Ma l'avvio non è davvero dei migliori. Già al tredicesimo infatti gli ospiti passano in vantaggio con il gol di Penco, che è abile a superare Coco per lo 0-1 sugli sviluppi di un'azione nata tutta sulla fascia destra da parte dei laziali. Il gelo cala sull'impianto avezzanese, ma la reazione dell'Avezzano è di carattere. Con Provenzano che non trova il momento giusto per la battuta in porta e spreca una buona occasione. È quindi un piazzato di Zanon a terminare alto rispetto allo specchio dei laziali e sempre nel primo tempo c'è spazio per un intervento del portiere Giordani ad opporsi su un pallone messo in mezzo da parte di un esterno dell'Avezzano. Non succede più nulla fino al fischio che stancisce l'intervallo dopo la prima frazione, quindi nella ripresa l'assalto bianco-verde è subito totale. Occasionissima per l'Avezzano con De Almeida che serve Provenzano, destro secco e Giordani si oppone con i piedi chiudendo il primo palo. Ancora una chance sugli sviluppi di un calcio di punizione battuta da Zanon, ma la deviazione aerea di Filosa non c'entra il bersaglio da distanza a dir poco ravvicinata per questione di centimetri. Sempre di testa manca pochissimo a De Almeida per impattare in maniera mortifera a ridosso di Giordani, quindi il portiere del Nuova Florida respinge anche un destro strozzato dello stesso talento bianco-verde qualche minuto dopo. C'è spazio per un'altra parata dell'estremo laziale anche al quarto d'ora, questa sul piattone dalla distanza di Bianciardi, quindi Scorsini sceglie di giocarsi un finale addirittura con il 4-2-4, ma nell'unica occasione di marca ospite il Nuovo Florida trova addirittura il raddoppio con un centro di pregio da parte del nuovo entrato Sebastiani. Gol che chiude la disputa, anche se c'è spazio ancora per una conclusione da parte di Sissé, che però termina ben lontana rispetto al bersaglio grosso, quindi il triplice fischio finale ufficializza la seconda sconfitta consecutiva dell'Avezzano, ancora a distanza dalla salvezza matematica e pesantemente contestata dalla curva nord a fine gara. Eccoci mister, al 91esimo, insomma un successo importantissimo ai danni dell'Avezzano e soprattutto tre punti che vi mettono in tutt'altra condizione rispetto alla corsa salvezza. Sì, era una partita importante, lo sapevamo, da stare molto attenti, abbiamo approcciato bene, abbiamo sofferto quando c'era da soffrire, ma senza mai rischiare reputo nulla di importante e quindi complimenti vanno ai miei ragazzi per questa vittoria meritata perché hanno lavorato duramente in settimana per cercare di raggiungere questo obiettivo. Sì, una vittoria importante in ottica salvezza, vediamo adesso insomma le altre partite delle ultime sette come riusciremo ad affrontarle, ma questo anche moralmente è un'importante vittoria. Mister, anche in termini di punti necessari per la salvezza, stante insomma la luce del fatto che tutte le squadre si stanno più o meno muovendo, forse anche qualcosa di meno del previsto, forse anche 40? Non lo so perché comunque sia non sono le ultime tre o quattro classifiche, comunque la zona play-out prende la sest'ultima, quindi vediamolo, il ragionamento io lo farei sui 42 punti, 43, 41, non lo so, però ripeto queste sono più chiacchiere da statistiche, da barre, insomma noi dobbiamo lavorare duramente in settimana e preparare ogni partita come stiamo facendo e poi tireremo le somme dopo.